Ciao a tutti, oggi analizzeremo la direzione di GTA Online, Bottom Dollar Bounties. Innanzitutto veniamo contattati da Maud, che abbiamo già incontrato nella storia base di GTA V, che ci introduce nel business dei cacciatori di taglie. Ci sono 5 location da cui possiamo scegliere. Io ho preferito scegliere quella che si trova a Downtown Vinewood, dato che possiedo altri business di vicino. Non ho barato la spesa e tanto ormai dei milioni rimasti non me ne farò nulla. Probabilmente spenderò al massimo altri 20-30 milioni per le prossime DLC prima dell'uscita di GTA VI. Una volta comprata, Maud ci introduce a Sofia e Jeanette, che sarà il nostro vero e proprio contatto per le missioni e per il business. Le missioni al solito si accedono alla PC e possiamo scegliere uno dei 4 target disponibili. Io ho preferito iniziare dalla ricompensa più bassa a quella più alta. La prima missione mi ha purtroppo portato a Palito Bay. E quando ho visto che con il furgone dovevo farmi tutta la strada fino all'altro lato della mappa, non l'ho presa affatto bene e stavo considerando di comprare la proprietà in un'altra location altrove. Una volta arrivato, ho dovuto cercare il tizio ed eliminare i suoi compagni prima di usare l'assorditore per fermarlo e caricarlo nel furgone per poi rifarmi di nuovo tutta la strada fino alla proprietà. Non è stata molto piacevole, infatti. La seconda missione, molto più semplice e veloce della prima, mi ha portato ad una proprietà in città dove, dopo aver eliminato le guardie, mi ha fatto danneggiare la proprietà e successivamente togliere la corrente dalla casa per forzare il target a uscire e poi al solito portarla alla nostra proprietà con il furgone. La terza missione, anch'essa semplice e veloce come la seconda, mi ha portato ad una proprietà situata a sud-est della città. Mi sono dovuto far strada eliminando i lost MC per poi disarmare il nostro target e al solito portarla alla nostra proprietà. La quarta missione è un po' diversa dalle altre, non solo per la ricompensa più alta ma anche perché mi forse di aprire una sessione a parte, quindi dare le vite limitate che in caso finiscono fallisce la missione, quindi mi raccomando fate scorte di snack e di potenti proiettili prima di iniziarla. La missione risulta semplice ma molto lunga, mi porta all'inizio in un obitorio per cercare di trovare il presunto corpo della CEO che scopriamo affinto la sua morte, ma risulta invece vive e vegeta in un ufficio in città, quindi sono dovuto far strada tra le guardie fino in cima all'edificio e al solito l'ho disarmata e portata nella nostra proprietà. Sicuramente questo target con ricompensa più alta gira di settimana in settimana come i veicoli del chop shop, magari se sbaglio mi potete correggere. A mio parere la DLC risulta sorprendentemente buona per essere una DLC estiva, ormai da anni sappiamo che le DLC più importanti e grandi del gioco in termini di giga non riscaricabili avvengono a dicembre, quindi non mi aspettavo niente di speciale. Le missioni sono perfettamente ripetibili e facendo un mix con le altre proprietà presenti nel gioco come guadagni passivi del nightclub, sala giochi, bunker, laboratorio di acidi, colpi via telefono eccetera forniscono un'altra via per fare soldi. Una nuova proprietà è sempre benvenuta, specialmente con altri due posti auto, ma devo ammettere che la Rockstar staranno avendo non pochi problemi a trovare posti dove localizzare nuove proprietà del gioco. Infatti è anche per questo che alcuni edifici nel corso degli anni sono cambiati. No, ovviamente l'edificio in costruzione ad un anno e ancora in costruzione 11 anni dopo, di cosa stiamo parlando. Comunque la DLC in totale do un 6.5 su 10 come contenuto, se consideriamo che è una DLC estiva potrei anche aumentarlo al 7, tutto sommato, è un'esperienza positiva. Sono curioso di sapere le vostre opinioni qui sotto. Se siete arrivati fin qui vi ringrazio l'attenzione e alla prossima. Ciao ciao!